Qua ci sono tutte le classi, la colonna con tutte le classi. Questi sono i giorni della settimana. Ciascun giorno della settimana si indica, per esempio, il varco di entrata, poi si indica il turno, se si entra alle 8 oppure alle 8.45, poi si indica la sede, la scala, il piano dell'aula, in questo caso è il piano primo, e l'aula 12, questo per il lunedì. Così all'ITIS Galileo Galilei di Arezzo si è tornati tra i banchi di scuola, riuscendo ad arginare il problema della mancanza di spazi, con studenti in presenza a rotazione e didattica mista. Abbiamo scelto di ridurre quotidianamente la presenza degli alunni di un sesto, guadagnando un sesto di spazi, recuperando il sesto giorno di scuola, perché i ragazzi di tutte le classi perdono un giorno di scuola alla settimana, perdono tra virgolette, lo effettuano con la didattica a distanza. Ma le criticità con le quali il mondo della scuola deve fare i conti quest'anno più che mai, purtroppo non finiscono qui. Si passa infatti da una carenza di docenti di sostegno ai ritardi sulle nomine degli insegnanti. Le scuole, come tutti gli anni, si trovano di fronte o ad un orario incompleto, per evitare che vi siano dei buchi, cioè delle classi durante alcune ore scoperte dal punto di vista degli insegnanti, oppure cercano di provvedere con altri docenti, quelli disponibili, con una logica che è un po' da tappa buchi. Ora, il punto è questo, se queste nomine fossero state accelerate, portate avanti in maniera tempistica già da qualche tempo, le scuole non si troverebbero di fronte a questo tipo di problemi. A complicare poi la gestione della didattica in presenza, anche la questione dei professori in isolamento, situazione già vissuta all'interno delle aule dell'Istituto Aretino, dove l'isolamento è scattato per due classi. Se una classe è in quarantena, ripristiniamo la didattica a distanza. Il problema grosso è quello degli insegnanti, perché alcuni insegnanti lavorano in quella classe che è in quarantena, ma lavorano anche in altre classi, ed essendo loro in quarantena, non possono essere in presenza fisica nelle altre classi in cui lavorano. Questo rende ancora più cogente il problema dei supplenti di cui ho parlato poco anzi.